Wi-Fi su 10 linee dell'Ama in città per viaggiare e navigare allo stesso tempo. Un progetto da 100.000 euro ideato e finanziato dal Gal Gran Sasso e presentato anche all'Aquila dal sindaco Massimo Cialente. Una partnership realizzata con l'ARPA, l'azienda di trasporto regionale, AMA e SCAV, le compagnie di trasporto pubblico dell'Aquila e Avezzano, che porta di fatto una grande agevolazione per studenti e lavoratori che durante le loro corse potranno usufruire dei servizi social, navigare sul web, accedere alle loro mail, usare aree intranet delle aziende con le quali lavorano. Un progetto attuato attraverso un protocollo d'intesa tra il Gal e le aziende pubbliche di trasporto locale. Le linee infrastrutturali per l'Ama sono da Ingegneria a Roio al centro commerciale L'Aquilone, per l'ARPA L'Aquila-Avezzano e Avezzano-L'Aquila. Per l'Ama il sistema wifi inoltre è stato inserito anche nello stallo che coincide con la biglietteria della Sangritana al lato della Fontana Luminosa in centro.